Nel libro Il Gaviano Jonathan Livingstone incontriamo un gaviano di nome Jonathan che è diverso dagli altri mentre la maggior parte dei gaviani è soddisfatta di volare e cercare il cibo. Jonathan è ossessionato dal volare più in alto e più velocemente di qualsiasi altro gaviano. Nella sua ricerca della perfezione Jonathan pratica continuamente il volo perfezionando la sua tecnica e velocità ma quando cerca di condividere le sue abilità con gli altri gaviani viene respinto dalla sua comunità perché è diverso. Tuttavia Jonathan non si arrende e continua a volare da solo fino a quando non scopre una nuova forma di volo che non aveva mai visto prima. Con la sua nuova conoscenza Jonathan si rende conto che la vera felicità non deriva dall'essere il migliore ma di condividere la propria conoscenza e aiutare gli altri a crescere. Così Jonathan ritorna alla sua comunità e inizia a insegnare a altri gaviani le sue tecniche di volo. All'inizio alcuni respingono le sue idee ma alla fine alcuni si uniscono e lui è diventato esperto volatore. In definitiva il gaviano Jonathan Livingstone insegna la importanza di non accontentarsi della mediocrità e di cercare costantemente di migliorare le nostre abilità e conoscenze. Inoltre ci ricorda che è importante condividere la nostra saghezza e aiutare gli altri a crescere anche noi sempre siamo compresi o accettati dagli altri. Grazie per la visione!